È un'iniziativa che parte dai social, lanciata l'idea di un'assemblea pubblica per discutere della questione policlinico, unico punto in scaletta. A Caltanissetta si terrà il 2 di maggio alle 18 al Teatro Regina Margherita, organizzata da Sergio Cillince e Rita Capraro e si intitola Artefici del nostro futuro. L'assemblea non ha nessuna connotazione politica, il sindaco farà il punto della situazione, racconterà lo stato dell'arte e poi partirà il dibattito, ovvero le proposte dei cittadini che parteciperanno. Invitate tutte le autorità politiche e religiose ai vertici dell'ASP. Intanto è partita sempre dai social la petizione dal titolo Vogliamo il Policlinico a Caltanissetta, già apposte 500 firme virtuali.